Prendiamo atto che la polizia di Fano non è in grado di far rispettare il codice della strada in questo strato di strada. La chiuda. Perché lasciare una strada che non risponde a quelle che sono le nomi del codice della strada, peraltro dette dal comune di Fano? Lui è il signor Rodolfo Martelli, residente a Bologna, ma proprietario da oltre 30 anni di un appartamento di via De Gasperi a Fano. Dopo diverse segnalazioni al comune e alla polizia locale, ha deciso di rivolgersi a Fano TV per chiedere più controlli nel prolungamento di via Fratelli Zuccari. Fano si vanta della bandiera blu e permette che si parcheggi in maniera assolutamente incontrollata vetture sulla spiaggia e moto sul giardino pubblico, si legge in una delle tante PEC inviate agli organi competenti. Cittadini incivili continuano a violare in modo palese il codice della strada, ha proseguito Martelli, il tutto su una via che di fatto, almeno fino ad oggi, mi risulta non essere tale. Il primo tratto, quello dove siamo adesso, nel 2019 fu con un'ordinanza comunale deciso che sarebbe diventato una strada. Prima non lo era, anche perché alcuni pezzi di terreno erano di proprietà di privati, Calaverde e alcuni proprietari di quello. Fu fatto l'esproprio, quindi fu detto che questo tratto di strada diveniva a tutti gli effetti una strada. Da lì, da quella curva in poi, vedremo, c'è un altro tratto di strada che anche quello, è sempre il prolungamento di via Zuccheri, è sempre nel 2019 fu detto dal comune di Fanno che a questo punto sarebbe diventato una strada. Siccome però il legislatore, soprattutto penso il codice della strada, prevede che su una strada di igiene ci sia la necessità di fare un'inversione di marcia, ecco che a questo punto hanno detto che l'inversione di marcia la si può fare in un parcheggio che hanno costruito là. Nell'ordinanza, poi ha aggiunto Martelli, si precisa che è pericolosa questa strada e che è la velocità massima di 20 km orari, ma qui mancano anche i cartelli di riferimento. Fra l'altro nell'ordinanza c'è scritto come la strada deve essere fatta, deve essere 9,50 m, ci deve essere due marciapiedi, uno da una parte e uno dall'altra, non c'è nulla. Io immagino che la prima contestazione che dice il comune dice che non ha i soldi. Allora, a parte il fatto che bisognerebbe vedere dal 2019 ad oggi quanti lavori sono stati fatti nel comune di Fanno che potevano essere inviati a fronte di un discorso del genere dove c'è un problema di sicurezza. Ma se no, in tutti i casi, hanno speso circa 40.000 euro per fare il parcheggio. Io dico perché questi 40.000 euro non sono stati utilizzati per fare la strada, poi fare il parcheggio. Mi viene in mente Andreotti che diceva che a pensare male si fa peccato, però ci si becca sempre. Questo è un pochettino il mio punto di vista. Martelli attende ancora una risposta scritta dalle istituzioni contattate, sindaco compreso. Sono stato chiamato da alcuni assessori, ha precisato, ma non hanno mai fatto nulla. Una serie di richieste a non finire. Fra l'altro il comune di Fanno prevede un numero verde. Chiamando questo numero verde ti dice che viene fatta la registrazione di quello che tu dici. Bene, allora io ero molto contento di questo. E telefono di continuo facendo presente questo. La risposta è sempre quella. Guardi, abbiamo la pattuglia, non abbiamo la pattuglia, la pattuglia è impegnata, eccetera, però di fatto non vengono mai. Quelle pochissime volte che ho visto che sono arrivate, di fatto non fanno la multa. Un altro problema è qua nel giardino. Allora, il giardino è bene tenere presente che un valore aggiunto non piccolo di queste case è questo giardino, dove se uno non vuole andare a mare perché è brutto tempo, può venire qui, stare in erba, prendere il sole, giocare con i bambini. Bellissimo questo giardino. Questo giardino è un giardino pubblico, quindi tutti gli abitanti possono venire dentro questo giardino. Ma chi è che fa la manutenzione di questo giardino? Chi è che taglia l'erba? Chi è che taglia le sepi? Chi è che lo pulisce il lunedì dopo che la domenica sono venuti e hanno fatto di tutto? Lo fa una società che è pagata dai condomini del condominio Madonna Ponte. Il comune, l'unica cosa che fa, che poi non è poco voglio dire, è quella di dare la corrente elettrica e la manutenzione dell'impianto di illuminazione del giardino. In più c'è una pompa sommersa su un pozzo che serve per irrigare. Ecco, questo è quello che ci dà il comune di Fano. Per il resto non ci dà nulla.